Ciao a tutti, sono Leopoldo Ghesbarro, sono il direttore di Wall Street Italia, che è una rivista economico-finanziaria e sono soprattutto, almeno per quanto riguarda questo contesto, l'autore di questo libro, Il Tempo della Verità. Ha avuto un titolo quasi un po' profetico, il Tempo della Verità è stato scelto per un motivo specifico, perché stiamo vivendo un tempo particolare, stiamo vivendo un tempo che impone a noi risparmiatori, a noi italiani che siamo tra i risparmiatori in assoluto più evoluti dal punto di vista della quantità, perlomeno di denaro che mettiamo da parte, siamo in un tempo, dicevo, che presuppone delle scelte importanti, molto importanti, molto strategiche, perché riguardano sostanzialmente il nostro presente e il nostro futuro. Io voglio dirvi anche una cosa importante, che nel prologo di questo libro io faccio accenno al fatto che il denaro è soltanto un mezzo ed è da lì che si parte. Spiego anche che forse per questo tanti libri di economia, tante trasmissioni di economia non trovano il favore del pubblico, perché poi parlano di qualcosa che veramente ci interessa poco in un modo o nell'altro, il denaro. Noi sembriamo interessati al denaro, ma in realtà siamo interessati a quello che col denaro potremmo fare, a quello che col denaro siamo in grado di saper fare, tutelare la nostra vita, tutelarci da eventuali situazioni non previste, costruire il futuro nostro e dei nostri figli. Insomma, il denaro per noi rappresenta quella garanzia, quella sicurezza, quella determinante di passaggio da una situazione di benessere ad una situazione di malessere. Lo vediamo proprio in queste ore, in queste settimane, in questi giorni, con quello che sta succedendo attorno, non al denaro, ma quello che ci mancherebbe o mancherebbe a molte famiglie di questo paese per la mancanza di denaro, soprattutto perché in questa fase c'è mancanza di lavoro. E da dove partiamo? Partiamo dal momento in cui siamo, parliamo del presente in cui siamo, partiamo da questo presente. Io voglio leggervi soltanto due frasi di Sant'Agostino, perché Sant'Agostino diceva sostanzialmente che noi viviamo sempre nel presente, perché ieri è il ricordare di oggi, quindi siamo in questo tempo, domani è funzione di quello che facciamo oggi, il futuro non esiste, il futuro è quello che noi sapremo o non sapremo disegnare, sapremo o non sapremo organizzare. Quindi sarà importante, sarà determinante, sarà forte la scelta di oggi rispetto a quello che succederà domani. E allora in che cosa cerco di differenziare questo libro da qualsiasi altro libro che parla di economia, che parla di risparmi, che parla di mercati finanziari? Dalla modalità di approcciarci al nostro risparmio. Credo che il tempo della verità sia quello in cui noi dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo metterci a sedere con noi stessi e a cominciarci a fare delle domande. Prima di tutto, se noi vogliamo delle risposte, dobbiamo fare delle domande. La prima domanda che dobbiamo fare noi stessi è perché? Perché io faccio una scelta piuttosto che un'altra? Perché preferisco mettere da parte 100 euro, 50 euro, 1000 euro, 10 milioni di euro invece che spenderli, invece che godermeli. C'è un motivo, c'è un obiettivo. Ebbene io questi motivi devo andare a ricercare perché poi in funzione dei motivi che trovo, in funzione di quei motivi io devo andare a fare le scelte finanziarie più coerenti, più corrette, più determinanti per ottenere quel tipo di risultato che attiene a quell'obiettivo. Cioè è un po' come se noi partissimo per un viaggio. Se noi partiamo per un viaggio innanzitutto controlliamo che la macchina sia posto, partiamo dal cruscotto, teniamo tutti i dati sotto controllo, vediamo se c'è il giusto livello di benzina, sappiamo quale tragitto dobbiamo fare, quanto spenderemo per quel tragitto, quanto tempo impiegheremo. Addirittura andiamo a misurare anche la situazione del traffico per capire se ci sono degli imprevisti lungo il nostro cammino e rendiamo prevedibili gli imprevisti. In realtà, guardate, questo libro gira attorno a tre regolette semplicissime, molto semplici, che io in qualche modo cerco di esplicitare attraverso una narrativa aneddotica che va a raccontare storie di vita che potrebbero aiutarci a comprendere meglio tutto quello che c'è attorno al mondo del risparmio. Quali sono queste tre regolette? Uno, dobbiamo eliminare i rischi dai nostri viaggi, dai nostri progetti di vita e quindi eliminare il rischio. Che significa? Significa rendere prevedibile l'imprevisto. Quando è che noi abbiamo un imprevisto? Quando non sapevamo che quella cosa poteva accadere. E allora vi chiedo e vi invito a chiedervi perché risparmiamo? Molte persone, quando gli faccio questa domanda, l'ho fatto anche in trasmissione televisiva, rispondono sa perché non si sa mai. E a quella risposta che domanda diamo che cos'è il non si sa mai? Cos'è il non si sa mai? È qualcosa di bello o qualcosa che noi vediamo come un'accezione negativa? Spesso e volentieri la immaginiamo come un'accezione negativa. E allora pensiamo che ci possa accadere qualcosa dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dello stato di benessere economico. Però questi sono gli imprevisti che nella vita quando arrivano, un po' come quello che è successo con la pandemia, cambiano completamente le nostre vite. Questo che stiamo vivendo è un po' un effetto che possiamo determinare, qualcuno nei modelli matematici lo identifica come l'effetto NOA, detto in inglese l'effetto NOA in italiano. L'effetto NOA qual è? È quello di un diluvio. Arriva un diluvio, cancella tutte le abitudini, tutto quello che avevamo precostituito, predeterminato, tutto ci sembra diverso, completamente diverso, da quello che eravamo abituati a vivere e a conoscere. Basta pensare a questi due, tre mesi, hanno sconvolto completamente le nostre abitudini, chiusi in casa, abbiamo smesso di abbracciare le persone a cui vogliamo bene, ci siamo allontanati da tutto quello che ci sembrava normale, andare allo stadio, andare a teatro, andare al cinema, addirittura passeggiare per strada è diventato quasi un delitto. Allora pensate se questo non è un effetto NOA. Un effetto NOA è prevedibile sulle nostre vite? Forse no dal punto di vista della conoscenza di certi effetti, ma forse sì dal punto di vista degli effetti finanziari, perché basterebbe un'assicurazione per determinare una copertura da rischio di mancato lavoro, una copertura a rischio di malattia? E un'assicurazione costa sempre molto poco rispetto al rischio che va a coprire. Perché? Perché c'è la mutualità, perché mette assieme il mio rischio con il vostro, con quello di tante altre persone e siccome non tutti vengono in qualche modo colpiti da quel rischio, chi ne beneficia dal punto di vista assicurativo è quello che in qualche modo tra i tantissimi ha dovuto subire quell'imprevisto. Ma noi, pensate, la vita la rendiamo sempre prevedibile. Noi viviamo facendo in modo da rendere prevedibile gli imprevisti. Vi faccio un esempio. Perché mettiamo la sveglia la sera prima di andare a dormire se abbiamo un appuntamento al mattino dopo? Per fare in modo da svegliarci all'orario giusto. Allora stiamo rendendo prevedibile un imprevisto che ci potrebbe portare lontano dall'obiettivo del nostro viaggio, del nostro viaggio professionale in questo caso, del nostro appuntamento. E perché il nostro organismo ingrassa? Perché rende prevedibile il fatto di poter avere delle carenze alimentari e quindi non avere abbastanza energia, non avere abbastanza sostanza, tra virgolette, per poter sostenersi. Ma se usciamo in macchina perché mettiamo la cintura di sicurezza? Per dover contrastare l'eventuale imprevisto di avere un tamponamento, anche delle cose poco rilevanti dal punto di vista dell'incidenza, però che ci possono creare qualche problemino se la cintura non l'avessimo. Allora capite perché portiamo il casco in moto? Perché mettiamo l'allarme prima di uscire di casa? O perché se usciamo in barca portiamo il giubbotto di salvataggio? Anche se è una giornata bellissima. Sono centomila, prima vi ho fatto l'esempio della macchina, noi abbiamo il cruscotto della macchina, è un modo per rendere prevedibile l'imprevisto. Sapere se dovesse mancare l'olio, noi lo dobbiamo sapere prima perché altrimenti l'auto potrebbe avere dei problemi, il motore potrebbe avere dei problemi. Devo sapere qual è la pressione delle gomme. Vedete, qualunque cosa facciamo noi rendiamo prevedibile l'imprevisto e allora dobbiamo farlo come primo tassello anche nella gestione dei nostri risparmi. Il secondo tassello, la seconda regoletta non è meno importante, è quella che ci dice che dobbiamo accantonare più di quanto non stiamo accantonando e questo è un motivo determinante. Noi viviamo in un mondo in cui la demografia, gli effetti della demografia stanno cambiando tutte le regole del gioco. Cosa sta succedendo? Ci sono molte più persone che invecchiano rispetto a quelle che nascono e quindi noi abbiamo una curva, si dice demografica, che porta ad avere nel tempo sempre meno persone che lavorano rispetto a quelle che non lavorano. Questo potrebbe essere poco interessante se non ci fosse un'interconnessione dettata dalla spesa pubblica per la sanità e per le pensioni soprattutto che va ad incidere sui conti di ciascuno di noi. Vi faccio un esempio. In questo periodo, al di là di quello che è successo purtroppo per tante persone anziane, però è soltanto marginale dal punto di vista dei numeri, anche se marginale non lo è dal punto di vista degli effetti, in questo paese ci sono sempre più persone longeve e per longevità non stiamo parlando di 80-85, ma stiamo parlando di centenari, di ultracentenari. Ce ne sono 14.000 nel nostro paese, ma non sono quelli importanti. Pensate che tra un po' andranno in pensione tutti i baby boomers, tutti quelli nati dal dopoguerra fino al 1964 e sono una marea di persone che andranno in pensione e lo Stato non può sostenere la pensione se non c'è chi in qualche modo versa quei contributi pensionistici. Allora comprendete come un sistema pensionistico che prima si leggeva, considerato il fatto che c'erano tre, quattro persone al lavoro con una in pensione, oggi deve reggersi addirittura con un rapporto di uno a uno in questo momento ed un rapporto che tenderà a diminuire, capite? Che chi lavora o genera un reddito tale da potergli permette di sostenere il pensionato che è legato a lui in qualche modo, oppure il pensionato prenderà pochissimo denaro. E siccome noi vivremo più a lungo nel tempo, abbiamo la necessità di mettere da parte più soldi per accantonare per noi in futuro e per poter poi beneficiare di quelle somme in futuro. Ma non è solo quello, abbiamo bisogno di portare i nostri ragazzi nel mondo del lavoro, magari abbiamo necessità di utilizzare delle scuole che costano un pochino di più, sappiamo che ci sono delle università in Italia e all'estero che ci permettono già con più facilità di entrare nel mondo del lavoro. Allora sono tutte considerazioni che riescono ad ottenere beneficio, sono tutti i viaggi che noi facciamo e che hanno bisogno di coperture economiche importanti. Ma non basta, non basta perché l'altro aspetto, l'altra regola, la terza regola altrettanto importante che completa il ciclo è questa che noi dobbiamo fare in modo che la remunerazione dei nostri risparmi sia adeguata a quello che serve. Qualcuno dice noi dobbiamo fare in modo che i nostri risparmi lavorino per noi, noi lavoriamo per accantonare, produciamo reddito e poi quel reddito una parte lo spendiamo, una parte ci godiamo anche il frutto del nostro sacrificio, una parte decidiamo di metterlo da parte per gli obiettivi di cui vi parlavo prima. Ognuno poi ha i suoi obiettivi, ognuno ha il suo vestito, ognuno ha le sue misure, ognuno ha il suo genere di famiglia, c'è chi è sposato, chi non lo è, chi ha dei figli, chi non li ha, chi ha determinati obiettivi personali e chi non ne ha. Per cui ognuno poi deve strutturare il suo percorso di vita normale e finanziaria adeguato a quelle che sono le proprie esigenze. Per cui non c'è una regola identica per tutti, ma queste regole sono basilari perché arrivano prima della discesa nella misurazione di quelle che sono le nostre necessità ed esigenze. Quindi torniamo alla remunerazione, noi dovremmo fare in modo da ottenere il massimo risultato economico in funzione dei tempi di realizzazione. È come dire, se io decido di partire da Roma e andare a Milano nel più breve tempo possibile, ho una strada, quella aerea, che è quella che impiega meno tempo possibile, poi ho il treno con l'alta velocità, poi ho l'auto, poi ho la bicicletta, poi ho anche la possibilità di andare a piedi. Ognuno di questi viaggi mi permette di scegliere una tempistica di arrivo e ognuno di questi viaggi va programmato. Invece noi in questo momento, per esempio nel nostro paese, stiamo scegliendo di avere quasi tutti i soldi che noi abbiamo risparmiato una buona parte di questi soldi su strumenti finanziari che in questo momento danno reddito zero o addirittura negativo. Pensate, in Italia abbiamo quasi 4.600 miliardi di risparmi liquidi e altri 6.000 o poco meno di risparmi legati ai nostri prodotti immobiliari, quindi case e soprattutto per quanto riguarda le imprese, la parte dei capannoni, strutture industriali, per un montante di risparmi che sfiora i 10.000 miliardi. Capite, siamo un paese povero dal punto di vista del pubblico perché abbiamo 2.500 miliardi di debito pubblico, ma abbiamo 10.000 miliardi di risparmi. Questi 10.000 miliardi dobbiamo farli crescere in funzione dei tempi in cui li andremo a recuperare, perché altrimenti lasciando i soldi su un conto corrente, in questo momento ce ne sono di quei 4.500 di cui vi parlavo che è la ricchezza liquida in questo paese, ce ne sono 1.500 sui conti correnti e sui conti correnti non credo che nessuno di voi prenda delle redditività adeguate a quello che realmente ci serve. Sui conti correnti noi abbiamo lo zero virgola, il meno zero virgola se consideriamo che non ci sono interessi e che ci sono spese da pagare. E allora la considerazione giusta che dobbiamo fare, che noi dobbiamo trovare gli strumenti adeguati per quello che ci serve. Il conto corrente non è uno strumento finanziario di accumulazione, il conto corrente è uno strumento di servizio per gestire la liquidità. Quello che cede la liquidità, cioè che ci serve per le spese di tutti i giorni, per pagare le tasse, per pagare il ristorante, per andare a fare una vacanza breve quando ce lo riconcederanno, ecco tutta questa roba qui va gestita con la liquidità, tutto il resto passa su altri strumenti finanziari che noi dobbiamo sapere individuare. E qui casca un po' l'asino, direbbe qualcuno, no? Dover sapere individuare quali sono gli strumenti finanziari corretti per poter raggiungere i nostri obiettivi di vita non è cosa facile perché c'è una pletora di strumenti finanziari in questo momento, valute diverse, strumenti finanziari diversi, in qualche modo ci sono intermediari finanziari diverse, banche, assicurazioni, ecco in questo mondo come ci muoviamo? E allora per capire come muoversi in questo mondo io voglio leggervi una storiella, una storiella con cui chiudo praticamente questo libro che io ritengo sia la quarta regola che dobbiamo seguire. Un giorno in un ufficio si blocca il computer che manda avanti tutta l'azienda. Il titolare dell'impresa chiama immediatamente un tecnico specializzato. Il tecnico si avvicina al computer, prova ad accenderlo, lo ascolta quasi fosse un dottore, quasi un cardiologo e in pochi minuti individua il problema, estrae un cacciavite, serra una vite e magicamente il computer torna a funzionare. Il titolare dell'azienda naturalmente, io adesso vado anche un po' a braccio, non vi leggo tutte le parole, è felicissimo per quello che è successo, è disposto anche a pagare una gratifica al tecnico che in pochi minuti ha individuato qual era il problema e glielo ha risolto, quindi risolvendo quel problema gli ha risolto la chiusura dell'impresa dell'azienda per quel giorno. Eppure i due cominciano a litigare perché il tecnico all'atto del pagamento della parcella chiede 1000 euro e il proprietario dell'azienda non riesce a capire perché per serrare una vite ci vogliano 1000 euro di parcella da pagare. Bene, i due litigano, dopo un po' il tecnico va via e il proprietario dell'azienda, l'imprenditore gli dice guarda ti pagherò ad una condizione, tu domani manderai a me una fattura con le specifiche del perché io debba pagarti tanto. Bene, il tecnico va via, il giorno dopo il proprietario dell'azienda, l'imprenditore apre la sua posta elettronica e trova la fattura del tecnico e tra le tante cose c'era scritto serrare la vite un euro, sapere quale vite serrare 999 euro. Qual è la morale di questa storiella? Che sostanzialmente noi tante volte ci preoccupiamo di un costo, ci preoccupiamo di quello che dobbiamo pagare, non ci preoccupiamo della qualità del servizio che dobbiamo erogare in qualche modo, la qualità del servizio alla fine conta molto di più di quello che in qualche modo è il costo reale perché se paghiamo per qualcosa dobbiamo pagarla per qualcosa che vale. Allora il tempo della verità racconta proprio questo, racconta quali sono le regole che dobbiamo seguire per poter arrivare concretamente alla realizzazione dei nostri progetti di vita e sapere adeguare a questi progetti di vita tutte le determinanti finanziarie che ci servono. Vi ricordo una cosa, oggi è il tempo delle scelte, il tempo della verità ci impone oggi di comprendere cosa fare per realizzare il nostro domani, quello dei nostri figli per chi ne ha e anche il passaggio generazionale se ci riflettete ha bisogno di scelte perché non debbano essere altri a fare delle scelte per noi. Questo è quello che ho voluto raccontarvi in questi 20 minuti di chiacchierata assieme, ma vi invito a leggere questo libro perché è molto semplice, ci sono tutta una serie di storie di vita vissuta che ci aiutano e spero vi aiutino a comprendere meglio come utilizzare il vostro risparmio. Arrivederci a tutti.